eccoci qua cari amici vi do il buongiorno a tutti oggi ho così la fortuna di avere al momento finché non scappa il bravissimo Renatone qua appunto che come vedete è dotato oggi ciao carissime amiche e ciao carissimi amici in diretta per il canale del mar in quadra la bellissima Ciree vicino a Fers bellissimo raduno della Lega Antichi Motori eccoci qua caro Renato eh c'è qualche inedito andiamo un po' a vedere qua vieni un po' con me il microfono c'è bisogna essersi sempre e troviamo sempre qualche inedito perché da una manifestazione all'altra cambia sempre qualcosa quindi ne vale la pena a Marvin 11 gradi ci stiamo rinfrescando finalmente dopo un'estate calda ringrazio questo sì che si fa il raduno in questo periodo amici 11 gradi temperatura fantastica Marco eccoci qua viene un po' Renato andiamo a vedere intanto due tre due tre novità se ci sono intanto la presenza di questo di questo camion così molto velocemente questo Fiat 691 movimento terra che non l'ho mai visto è questo una meraviglia questo è un inedito è questo è un inedito per cui Renato merita merita Marvin andiamo un po' a vedere ragazzi godiamoci qua Renatone perché appunto magari andiamo dopo non è che dopo vai a fare qualche scoop alla Trentino trasporti no? eh ci vediamo domani mattina dopo ecco qua eh Renato andiamo a intervistare magari vai lì vai lì a salutare qua ecco qua Renatone carissimi amici siamo il canale del Marvin lega antichi motori intervistiamo ti conosco conosco il Marvin bravissimo ecco bellissimo questo veicolo vuoi farsi una piccola descrizione carissimo amico aspetta dai lo facciamo domani ma intanto è arrivato eh complimenti è veramente uno spettacolo da dove che vieni? da imperia bello da lontano poi l'imperia bellissimo questo camion movimento terra la grande novità è questo eh spettacolo è d'anchino eh questo 690 amici è d'anchino spettacolo eh guardate qua caro caro Renatone rigraffiamo il nostro amico Paolo di questo spettacolo movimento terra ma domani lo documentiamo eh fantastico eh amici domani lo documentiamo eh attenzione attenzione guarda un po' chi arriva arriva Francesco eh Francesco è la diretta Marvin è la diretta vieni un po' Renato eh guardate qua Renatone la diretta la diretta ce la gustiamo in diretta sul canale del Marvin 11 gradi a Cirelli guarda qua guarda qua Francesco eh vai Marvin guarda qua intervista lui eh ma che ha avuto un gran successo in questi giorni guardate qua e allora grande Francesco spettacolo hai visto che è uscito il filmato 20.000 visualizzazioni e continua grandissimo grandissimo eccoci qua cari amici appassionati di vecchi camion guardate un po' la diretta la diretta come piace a noi amici la diretta amici dai abbiamo qua Renatone ce lo godiamo guarda qua caro Renato un tigre e bravissimo Gaidu Renzo Gaidu attenzione autobus della Trentino trasporti vedo eh ci andiamo su no ex sì ex attesina comunque ex attesina bravissimo Renato andiamo un po' a vedere questo vieni un po' Renato vai avanti vediamo qua inviato Renato ci gustiamo la diretta sul canale del Marvin 11 gradi di Cibetano amici la diretta eccoci qua guardate questa bellissima Giulia che la vogliamo vedere ecco qua eh ciao Tony ecco qua eh vai Renato vai documenta scumita guarda qua guarda qua andiamo vieni 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 andiamo a tervistare fate questo pasto di Renato guardate la diretta un saluto grandissimo a Marvin ciao ciao Marvin sempre il numero uno siamo arrivati dai bravo grazie grandissimi complimenti staccolo guarda qua Renato eh vediamo qua Renato in versione finalmente dopo tanto tempo si rivede a terrenato d'altronde non si muove mai dalle nostre zone ecco qua eh e abbiamo appunto il vai a chiudere il filmato sull'autobus sì andiamo un po' a chiudere qua il filmato andiamo qua chiaramente l'avevamo già visto ecco qua eh eccoci qua bellissima 7,90 questo bellissimo Iveco 4,90 meraviglioso ex attesina amici ex attesina da mare e da gustare amici la diretta guardate pazzesca diretta nel canale del Marvin il vero vintage sul canale del Marvin da gustare già di mattina bravissimo Renato il microfono va sempre bene certo va benissimo però guarda guarda Renato facciamo intanto che fa questa manovretta facciamo una sfumatura qua eh guarda qua questa Giulia spettacolo eh attenzione guardate qua che spettacolo eh amici è da mare è da gustare io me la posso toccare con le mie mani ecco qua è bellissima questa diretta sul canale del Marvin e Carlo Renato qua ti saluto questo è il vero vintage ti saluto adesso facciamo un report sulla Giulia eh spettacolo ragazzi ciao a tutti farinatura dal raduno camion storici qua oggi di ottobre proposto da lega antichi motori spettacolo ciao a tutti